L'avvertenza della Oneywell di Atessa prosegue su due binari paralleli, dopo che l'azienda ha annunciato la chiusura dello stabilimento di turbo compressori in Val di Sangro a primavera del prossimo anno. Da un lato, al Ministero dello Sviluppo Economico, resta aperto il tavolo per cercare un compratore ed avviare una riconversione che salvaguardi, se non tutti i 420 posti di lavoro, buona parte di essi. D'altra parte proseguono le trattative tra sindacati e multinazionale americana per quella che i rappresentanti dei lavoratori chiamano una buon'uscita, altrimenti detta incentivo all'esodo. Una sorta di buon'uscita per accompagnare le persone, da una parte quelle che vogliono andare via e hanno già in mente di fare altro, dall'altra parte coloro che invece resteranno qui a studiare, a monitorare insieme a noi l'opportunità di una riconversione. Dopo due mesi di sciopero i lavoratori sono tutti tornati all'interno della fabbrica per proseguire il proprio lavoro, così come hanno fatto per 25 anni. I sindacati, se da una parte hanno ormai chiaro che l'azienda non tornerà sui suoi passi, d'altro canto non vogliono mollare sul fronte salvaguardia dei posti di lavoro, anche perché se ci dovesse essere una sola possibilità di riconversione, i tempi sono comunque destinati ad essere lunghi. La riconversione è difficilissima perché non c'è nulla di scontato e soprattutto i tempi sono molto lunghi e non compatibili con gli ammortizzatori sociali che scadono al 2 di aprile. Dire quante speranze ci sono è un po' complicato. Noi pensiamo che se lavoreremo bene, se il Ministero lavorerà bene, qualche impresa, tra l'altro il Ministero ne ha già individuate tre, qualche impresa pronta ad investire sicuramente la troveremo. Grazie.